Sì, è un momento di grande preoccupazione per i costruttori perché fanno notare che non è un problema che riguarda soltanto le imprese, ma riguarda soprattutto le persone che lavorano con le imprese. Stiamo parlando sia degli operai ma anche dei tecnici. Teniamo presente che almeno 500.000 tecnici in tutta Italia operano attorno a questo settore. Teniamo presente che migliaia di persone hanno perso il posto di lavoro, un numero fra tutti, 7.552 aziende su 33.000 hanno chiuso negli ultimi tre anni nel settore delle edilizie. Gli imprenditori edili italiani si preparano a denunciare lo Stato civilmente, una sorta di class action che verrà portata avanti dalle imprese. Perché questa urgenza in questo momento di crisi? Perché siamo arrivati a un momento di non ritorno, perché le imprese falliscono, abbiamo avuto 7.552 fallimenti dall'inizio della crisi, falliscono e uno dei motivi fondamentali, che è la mancanza di guidità, è dovuta ai ritardati pagamenti a pubblica amministrazione che hanno raggiunto i nuovi mesi di media. Questo vuol dire che la burocrazia è diventata un nemico per le imprese? Beh, questo più che un fatto di burocrazia è una scelta proprio politica, cioè di un artificio contabile per cui lo Stato può dire di non avere questo debito, è una situazione commerciale finché non paga. È una cosa che non verrebbe accettata giustamente per nessun bilancio di nessuna impresa. E invece lo facciamo per cercare di avere i conti dello Stato migliori. La burocrazia rappresenta lo Stato in questo Paese. Negli altri Paesi la burocrazia è il fiore all'occhiello. Negli altri Paesi la burocrazia è la marcia in più rispetto alla vita sociale del Paese. In questo nostro Paese la burocrazia è il freno a mano, il piede sul pedale del freno, la macchina bloccata, le ganasce bloccate. La burocrazia è il male principale di questo Paese. In tempi di crisi i calcoli ufficiali o ufficiosi ci dicono che 60 miliardi l'anno vanno in corruzione, 163 miliardi vengono controllati dalle famiglie mafiose. Ma tutto questo patrimonio può ritornare agli italiani? Sì, la corruzione la si batte cambiando la burocrazia. La corruzione e anche il vantaggio della mafia nascono laddove lo Stato non è capace di fare il suo dovere con efficienza, con capacità, in tempi certi dando fiducia e sicurezza ai cittadini. La corruzione nell'edilizia, così come l'abusivismo, nasce da una burocrazia sbagliata. Interveniamo subito sulla burocrazia e si libereranno grandi energie e grandi risorse. Non vi basta pareggiare i conti con il fisco come propone lo Stato? Ma adesso al di là dei metodi, qui c'è una questione di rapporto proprio cittadino-Stato, che il cittadino non deve essere imprenditore o qualunque cosa sia un suddito, nel senso che c'è un contratto che dice di pagare in euro, il fatto di pagare in bot, di trovare artifici vari, non è corretto che lo faccia lo Stato che deve dare per primo l'esempio di un comportamento lineare. Quindi noi diciamo basta, pagate questi debiti perché questo fa anche bene all'economia e permette alle imprese di risollevarsi con una forte boccata d'ossigeno. Parliamo di 19 miliardi per il settore dell'edilizia. Però noi qui parliamo di carne, lacrime e sangue. Non è che sono le aziende che soffrono, sono vite umane che soffrono. Voi avete dovuto licenziare, ad esempio. È il Paese che soffre. A Catania nel 2011 ci sono state il 30% di ore lavorate in meno. 30% nei primi tre mesi di quest'anno, raffrontati ai primi tre mesi del 2011. Il calo è di un ulteriore 30%. Non è possibile andare avanti così. La povertà veramente sta aggredendo una classe che prima viveva non aggiatamente, ma abbastanza onestamente, modestamente, ma riusciva a vivere. Adesso non riesce più a vivere. Le imprese che hanno chiuso, sono imprese definitivamente morte che voi pensate di aver perso? Oppure c'è un piano anche del lancio per recuperare molti di questi imprenditori, soprattutto migliaia di lavoratori che hanno perso il posto di lavoro? No, le migliaia di lavoratori vanno assolutamente recuperati. Io sono convinto che il modo di uscire dalla crisi, pur nel rispetto delle regole europee, è quella di far ripartire l'edilizia. Quindi ritengo col tanto che c'è da fare che l'edilizia tornerà su. Purtroppo le imprese che chiudono, chiudono. Non è che se falliscono, falliscono. La cosa inaccettabile è che falliscano per mancanza di liquidità, come spessissimo. Nella stragrande maggioranza dei casi avviene, non per aver sbagliato qualcosa, ma magari perché non sei pagato. Nella filiera sono i più piccoli a pagare per primi, ovviamente, come al solito, perché non ricevono pagamenti anche per centinaia di migliaia di euro, anche per non tantissimi euro, a livello di impresa e chiudono. Qui non stiamo parlando soltanto di aziende che hanno dei problemi, qui stiamo parlando anche di professionisti, delle loro famiglie, che non vedono arrivare o vedono arrivare con anni di ritardo quello che è il frutto del loro lavoro. Assolutamente sì. Il 50% degli architetti italiani hanno debiti con le banche importanti che derivano dai non pagamenti da parte della pubblica amministrazione o dei privati. Questi debiti non sono debiti di società, sono debiti delle famiglie, perché noi siamo studi piccoli, medi o piccolissimi, i nostri debiti sono debiti personali sulle nostre case, sull'iscrizione a scuola dei nostri figli, sulla nostra automobile. Qui si rischia veramente la strage di una classe professionale. Qual è la vostra proposta? C'è una burocrazia che è diventata quasi nemica per voi? Assolutamente sì. Intanto dobbiamo uscire da questo circolo vizioso della pubblica amministrazione che non ti paga per un lavoro fatto, la banca che non ti sostiene in attesa del pagamento, perché così non si va da nessuna parte. Poi bisogna uscire da questa burocrazia che blocca a tutti gli effetti lo sviluppo, progetti che stanno mesi, anni in attesa di un sì o di un no, che fa sì che gli investitori stranieri scappino, che gli italiani non investano più dell'edilizia. E ricordiamoci che parliamo delle nostre città, della sicurezza degli edifici, non stiamo parlando di qualcosa di astratto. Ma nell'edilizia c'è anche l'esigenza di riconversione? Non occorre soltanto costruire case nuove, bisogna anche ristrutturarle, oppure impiantare il verde laddove è possibile. Ed è questo comunque il vostro compito. Assolutamente sì. Guardi, c'è un paese da manutenere. La prima cosa è la manutenzione delle infrastrutture, pensi ai dissesti idrogeologici, pensi alle scuole, pensi a quello che diceva lei, le città. Cioè c'è da fare il risparmio energetico nei fabbricati, c'è da lavorare sulla città esistente e non consumare nuovo territorio. Ma su questo noi abbiamo fatto una fortissima proposta, che devo dire il Governo sta studiando. Il punto è che bisogna fare presto. Cioè c'è stata una politica economica sbagliata, diciamolo con serenità, dettata da queste indicazioni europee, che è prevalza fino ad oggi. Ora è venuto il momento di invertire la rotta e cambiare. Noi lo diciamo da sempre, mi sembra che stia venendo fuori che questo ragionamento è giusto. Non si tratta di essere keynesiani o monetaristi, si tratta di avere un po' di buonsenso. E quello di cominciare a pagare le imprese è un fatto fondamentale. In Germania, in Francia, in Spagna, pagano con tempi ridottissimi rispetto a noi. Lasciamo perdere i 35-40 giorni della Germania, ma 50-60 giorni, noi siamo arrivati a 9 mesi, come dicevo prima. Molti soffrono un anno, due anni. Un'impresa dopo un anno che ha fatto il lavoro e l'ha finita non ha più senso. È chiaro che non riesce più a tenere i conti a posto. Diciamo una cosa, spesso quando si guarda all'impresa, all'edilizia, si guarda anche con sospetto. Volete consumare territori, volete costruire, ma questo non è soltanto il vostro compito. Il vostro compito è ristrutturare le città, renderle antisismiche, portare il verde nelle città. Investire in tutto questo, anche da parte dello Stato, non sarebbe una grande occasione di crescita per il Paese? Lo è. Infatti noi abbiamo proposto un importante programma che si chiama Riuso di Regenerazione Urbana delle Città, che mette a zero il consumo del suolo e propone di rigenerare le nostre città. Abbiamo anche indicato quali siano i termini economici e dove si possono trovare le risorse. È un lavoro fatto insieme a tutta la filiera delle ricostruzioni. È ora che questo Paese cominci a progettare il suo futuro, perché sennò i nostri figli vivranno in città inquinate, sbagliate e soprattutto il Paese perderà definitivamente in competitività. Voi consumate territorio, ma l'edilizia non è soltanto questo, l'edilizia è anche emotenzione, ristrutturazione, anche impianto di verde. Ecco, Lange Catania, ma Lange Nazionale, da tre anni predica che noi non vogliamo consumare altro territorio, che noi non abbiamo bisogno di altri piani regolatori, che impegnino altro territorio. Noi vogliamo manutenere, vogliamo ristrutturare l'edilizia esistente, vogliamo migliorare l'edilizia esistente, perché il nostro patrimonio edile, per la maggior parte realizzato dopo la guerra, è una grande bomba d'orologeria, perché è stato realizzato senza norme antisismiche. E se per caso in Italia si dovesse verificare in una qualunque città un evento sismico come quello dell'Aquila, e se questo evento si dovesse verificare di notte, i morti si conterebbero a centinaia di migliaia, perché le case nostre sono fatiscenti dal punto di vista della stabilità statica.